Monte Carlo torna a tingersi di rosso e di bianco, tutto pronto nella cittadina medievale per la 49esima edizione della festa del vino in programma dall'1 all'11 settembre. Protagonista principale sarà come di consueto il vino, prodotto di eccellenza della terra montecarlese, ma come nelle precedenti, anche questa edizione, presenterà un programma ricco di iniziative finalizzate alla valorizzazione della storia, della cultura e delle tradizioni locali. Il programma prevede spettacoli, spazi espositivi, mostre culturali, degustazione di vini e piatti della tradizione preparati negli stand gastronomici di Piazza Darmi e Piazza Garibaldi. Anche quest'anno, immancabile l'appuntamento con il salotto del vino e del verde, divenuto il fiore all'occhiello della manifestazione, allestito nel giardino del Palazzo Pellegrini Carmignani. Ma anche Monte Carlo non si dimentica del terremoto e così la festa del vino sarà l'occasione per accogliere fondi. Una festa del vino che è dedicata non solo allo stare insieme, ma soprattutto con un pensiero rivolto in questi momenti di grandissima difficoltà, agli amici della provincia di Rieti. Questa mattina contestualmente la presentazione della festa del vino nasce anche sotto un profilo proprio comunitario, con l'apertura di un conto corrente diretto dalle nostre parrocchie, col mondo associazionistico, tutta una serie di iniziative che non si fermeranno in questo periodo, ma l'avranno più sul lungo periodo, la volontà di raccogliere fondi da destinare poi al momento opportuno, con gli enti di pari livello, per aiutare una ricostruzione che ci auguriamo arrivi prima possibile.